Andro Bianchi, allenatore della categoria giovanissima in 80, campione in carica 2-0, partita equilibrata fino all'Eurogoal, al vostro Eurogoal, poi nel secondo tempo mi sembra che abbiate legittimato questa vittoria. Sì, è stata una partita molto equilibrata, infatti abbiamo fatto i complimenti ai nostri avversari perché hanno giocato una partita, secondo me, degna di una finale. Noi siamo usi a trovare il gol per primi e quindi comunque siamo stati bravi a sfruttare anche delle ripartenze, poi come ha detto lei giustamente nel secondo tempo siamo usciti molto bene, dimostrando parte del nostro vero gioco. Che dire, grazie ai ragazzi perché hanno dimostrato di essere protagonisti in questo torneo, vincendo tutte le partite tra l'altro, con merito, quindi è un onore allenarli. E quindi mi hanno dato una grandissima soddisfazione, a noi e alla società che ci tiene tantissimo, questo è un torneo che è sempre stato veramente molto sentito dalle nostre parti della montagna, quindi anche la società è veramente molto soddisfatta. Quindi un ottimo percorso il vostro perché sei detto che avete fatto un percorso netto. Un percorso netto, sì. La finale, il titolo, lo scudetto e la ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta, esattamente. Abbiamo dimostrato in una finale non semplice, come ho detto prima, quelli che sono i nostri valori tecnici, ma soprattutto umani, perché comunque è un gruppo molto unito, molto legato e molto affiatato. E questo penso si sia visto in campo. Grazie a tutti.